Carpi Ternana Carpi Ternana Carpi Ternana Carpi Ternana meglio dire l'orrore che porta al gol Cabin che festeggia nel migliore dei modi al 48esimo minuto il gol che fino a quel momento decide il big match e soprattutto festeggia il passaggio alla Napoli dove andrà nel mercato estivo Erroraccio sulla spizzata di testa di Euseppi si intromette Cabin che poi incrocia molto bene sul palloposto rete dell'1-0 Carpi sblocca il big match Carpi che poi ci proverà con questa combinazione tra Perini e Euseppi arriva anche la conclusione facile la parata del portiere della Ternana Ambrosi parata abbastanza semplice molto più difficile invece quella di Mandrelli al 70esimo minuto sulla punizione di Giacomelli Ternana che preme la ricerca della pareggio si accende una mischi in area di rigore Carpi che non riesce a liberare e allora arriva Secas uno dei migliori in campo timbra col destro il gol dell'1-1 a 71esimo minuto un gol che scatena poi una parapiglia in campo vedete giocatori della Ternana che vanno a recuperare il pallone gli animi si scaldano e non poco Docente davvero sugli scudi in questo momento anche il Carpigiano Concas si allacciano i due, si spintonano poi andranno praticamente come si dice in questo caso becco becco e otterranno il cartellino rosso vediamo Concas e Docente Docente ci mette la testa Concas ci mette le braccia i capo espiatori per l'arbitro sono loro due espulse entrambi squadre che giocheranno da questo momento in 10 uomini Ternana che dovrà giocare anche senza l'ausilio dell'allenatore Napoli in panchina espulso probabilmente per una parola di troppo all'arbitro dell'incontro Castrignano di Roma Ternana che va vicinissimo al gol del vantaggio guardate cosa sbaglia Pisacane a porta vuota non riesce ad inquadrare lo specchio su un'uscita davvero brutta di Mandrelli ancora Ternana che spinge Carpi un po' frastornato palla in mezzo all'area di rigore arriva il colpo di testa di De Giosa Mandrelli questa volta alza sopra la traversa poi cartellino rosso che giunge anche per lo russo era già munito abbatte di andà Carpi in 9 uomini addirittura al novantesimo minuto un minuto dopo però anche di andà lascia il campo anche lui era già munito rifila un'ancata voleva semplicemente commettere fallo molto fiscale in questo caso Castregna no espelle anche il giocatore della Ternana squadre che finiscono in 9 contro 9 animi davvero molto molto agitati nel finale c'è un pareggio come dire tanto rumore per nulla nel gelo il vantaggio della Ternana sul Carpi rimane congelato a 8 punti grazie 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 grazie